benvenuti nel video dedicato alle borse e agli zaini questo video ha lo scopo di illustrarvi le varie opzioni che trovate nella pagina misure qui nella lista tipi troviamo accessori cliccando sull'icona accessori nella lista sottotipi compaiono queste iconcine la differenza tra il tipo a b c e d è la forma la tipo a abbiamo nella parte superiore è formata da un angolo mentre la parte inferiore da una rotondità il tipo b sia la parte superiore che la parte inferiore troviamo rotondità mentre il tipo c abbiamo sia nella parte superiore che nella parte inferiore degli angoli e il tipo d abbiamo una rotondità nella parte superiore mentre nella parte inferiore abbiamo un angolo perciò prima di partire a creare il nostro cartamodello perché vi ricordo che con ttcad l3 potete partire da zero nella realizzazione di cartamodelli per borse o zaini quindi prima di partire dovete già avere in mente la forma che desiderate però vi ricordo che potete sempre modificarla nella pagina gestione parti trovate tutte le opzioni come nei cartamodelli per l'abbigliamento e potete inserire o modificare a vostro piacimento partiamo con il tipo a innanzitutto io vi dico che il tipo a e il tipo b la pagina misure presenta le stesse opzioni apriamo col doppio clic ci troviamo nella pagina misure questa parte sia per il tipo a che per il tipo b sarà uguale nella finestra grafica troviamo come partenza l'anteprima modello questa parte che vediamo con la scritta davanti e dietro è metà della parte frontale o retro di una borsa o di uno zaino viene visualizzato solo metà perché se noi poi nella gestione parti vogliamo andare a fare delle modifiche abbiamo la possibilità con lo specchia poi di ritrovarci le parti già modificate senza modificare sia la parte destra che una parte sinistra vado a selezionare parti base originali e seleziono mostra quote così mi viene visualizzato mi vengono visualizzate le misure in centimetri nella parte sinistra dove ho la possibilità di inserire le misure o un'altezza in questo caso sono 30 centimetri ed è questa che viene visualizzata la larghezza in questo caso mi viene indicato 50 centimetri e qui vedo la semilarghezza 25 che è la metà di 50 mi dà la possibilità anche di queste due opzioni per la parte a mi farò vedere l'applica lato lato singolo se io vado a selezionare con la spunta applica lato singolo mi si abilita questa casella per lato singolo si intende una fascia un rettangolo che va applicato poi sulla parte laterale della borsa e sul fondo della borsa per dare più ampiezza ho la possibilità di decidere la larghezza che desidero in questo caso sono cinque centimetri faccio applica nella parte grafica non vedo nessun cambiamento però se io vado a riselezionare anteprima modello ecco qui che è comparsa la fascia quindi io ho la possibilità di inserire questa parte esco voglio farvi vedere il tipo b come vi dicevo prima la si presenta nello stesso identico modo la parte delle misure la forma cambia perché vedo che è arrotondato sia nella parte superiore che nella parte inferiore ho anche qui la possibilità di inserire sia l'altezza che la larghezza ho la possibilità di mettere dentro la fascia di inserire una fascia se volessi nella parte fianco e nella parte inferiore però volevo farvi vedere quest'altra opzione selezionando applica lati doppi mi si abilitano queste tre misure vi farò vedere con un esempio reale a cosa si riferiscono la larghezza sopra larghezza sotto e lunghezza sopra questa è la parte frontale e retro il davanti e dietro le parti superiore arrotondata e anche la parte inferiore arrotondata queste sono due fasce che servono per poi posizionare la cerniera nella metà queste fasce sono le fasce quelle sopra e questa è la larghezza della parte sopra mentre la lunghezza sopra è questa parte da qui tutto sopra e arriva anche lateralmente è la lunghezza della cerniera dell'apertura della cerniera mentre la parte sotto è questa la larghezza sotto è questa qui e per quanto riguarda la larghezza ho la possibilità di decidere la lunghezza no perché la calcola direttamente il programma sottraendola da questa lunghezza che invece io la devo mettere in solitamente corrisponde alla lunghezza della cerniera però può essere variabile con l'esempio appena visto è più semplice ora capire di cosa si tratta di cosa si trattano queste tre misure c'è la possibilità come fatto vedere dall'esempio di applicare una cerniera molto lunga vuol dire una cerniera che non arriva solo sulla parte superiore ma c'è la possibilità che giri attorno anche alla rotondità e arrivi fino alla parte laterale la prima cosa secondo me da inserire è la lunghezza sopra che può corrispondere alla lunghezza della cerniera in questo caso ho una larghezza della borsa che è di 50 centimetri io qui la ridimensionerei al totale di 24 centimetri perciò qui adesso mi diventa di 12 faccio vedere con anteprima ok avete visto di 12 centimetri se io ho intenzione di applicare una cerniera che oltre alla parte superiore arrivi anche un po nella parte laterale sapendo che la lunghezza è 24 centimetri se io utilizzo una cerniera da 30 vuol dire che mi arriva oltre quindi qui la lunghezza sopra la metto di 30 centimetri che corrisponde alla lunghezza che io desidero della cerniera la misura successiva andrei a mettere la larghezza sotto abbiamo visto di cosa si tratta mettiamo una larghezza qui viene indicato 5 centimetri la faccio più larga la metto di 8 centimetri la misura che vado a inserire per ultima è la larghezza sopra la larghezza sopra avete visto che sono due rettangoli con in mezzo la cerniera perciò la somma della delle due fascette più la cerniera mi deve dare la larghezza sotto questi 8 centimetri se io voglio far vedere la cerniera la larghezza sopra sarà la metà di quella sotto però vado a togliere anche un mezzo centimetro quindi da 8 la metà sarebbe 4 meno 0,5 o 3.5 così la somma delle due fascette mi fa 7 più un centimetro di cerniera mi fa lotto faccio applica ritorno all'anteprima modello ed ecco qua che ho la parte frontale e il retro della mia borsa il la parte inferiore e la parte superiore la parte inferiore la lunghezza come vi ho detto dal video viene calcolata in automatico perché il programma vede che misura avete messo sul lato superiore quindi questa parte e lui calcola in automatico quello che rimane per completare il perimetro della vostra zaino o borsa molto importante è ricordare che all'interno della pagina misure voi avete la possibilità di cambiare anche idea quindi se prima avevate deciso di utilizzare applica lati doppi e poi invece volete utilizzare solamente applica lato singolo all'interno della pagina misure quindi non siete usciti ancora dalla pagina misure avete la possibilità di cambiare il vostro progetto però una volta uscite dalla pagina misure ad esempio andiamo in gestione parti e poi ritornate nella pagina misure non avete più la possibilità di cambiare il vostro progetto avete la possibilità nella ad esempio in questo caso avevo selezionato applica lato singolo ho ancora la possibilità di variare la larghezza quindi di modificare la larghezza ma non ho più la possibilità se voglio di cambiare proprio il diciamo il progetto e di selezionare applica lati doppi quindi è molto importante ricordarsi che se usciamo dalla pagina misure ritornando non abbiamo più la possibilità di scegliere tra le due ma quella che è stata selezionata rimane quella per ripartire se volessi cambiare il progetto bisogna proprio ripartire da zero esco da questo progetto non lo salvo ora vi farò vedere il tipo c e il tipo d il tipo c e il tipo d nella pagina misure si presenta nello stesso identico modo ecco qui cosa cambia rispetto a quello precedente che vi ho fatto vedere quindi del tipo a del tipo b c'è la possibilità di applicare un fondo quindi una parte sotto alla borsa dando la misura della larghezza a fondo seleziona qui mi viene indicato una larghezza a fondo di 5 cm la lascio applica ed ecco qui che mi compare la parte del fondo la parte del fondo si presenta come forma e come dimensioni è un quarto del totale avete sempre la possibilità poi in gestione parti con la parte specchia di farla diventare il doppio e di farla diventare anche il totale e questo sempre perché se avete la volontà di cambiare le misure quindi di fare una cosa anche asimmetrica da una parte più larga e più stretta così avete la possibilità in una volta solo di fare queste modifiche poi di trovarvela nella sua interezza senza dover cambiare tutti quattro i lati questa è l'unica differenza che c'è nel rispetto all'a e b quindi se esco anche il c ecco qui che troviamo il fondo naturalmente cambia della partenza la forma perché in questo caso che siamo nel tipo di abbiamo la parte arrotondata sopra e la parte con angolo sotto mentre nella parte c abbiamo già si presenta con tutti gli angoli vengono lasciate anche le altre opzioni che abbiamo visto prima perché così avete più possibilità fate solo attenzione a non entrare in conflitto con le varie parti spero di esservi stata utile ai prossimi video ciao ciao ciao